Una sfida a colpi diversioni, a partecipare al certamen organizzato dalla Biblioteca di Ocesana di Ragusa agli studenti di alcuni licei di Comiso, Ragusa e Vittoria. Vediamo com'è andata con Alvise Losi. Una gara certo, ma soprattutto un'occasione per mostrare ai ragazzi che quegli studi classici a volte ritenuti tanto superati servono a forgiare la mente. A partecipare ieri al certamen Augustinianum ragusiense, gara di traduzione dal latino di Agostino organizzato dalla Biblioteca di Ocesana di Ragusa sono stati gli studenti di tre licei classici di Comiso, Ragusa e Vittoria del liceo scientifico di Vittoria con un duplice obiettivo. Uno l'apertura e la conoscenza di questo grande deposito culturale che è la Biblioteca Pernesi l'altro lato è invece la possibilità di accostare i giovani a percorsi un po' diversi da quelli abituali che si tengono nell'iter scolastico. E i risultati importanti fanno sperare agli organizzatori di estendere il certamen a livello regionale in futuro. 40 iscritti per un'edizione di Ocesana che tocca solo quelle che sono le città di Vittoria, Comiso e Ragusa è una bella soddisfazione, quindi io credo che ci siano gli estremi anche per cercare di estenderla a livello regionale per il prossimo anno. La scelta di Agostino poi, pensata proprio per il suo valore culturale. Vogliamo far conoscere anche meglio Sant'Agostino che molto spesso nei licei non si studia, non viene proposto eppure è un autore, sì cristiano, ma un autore anche classico, un autore molto ciceroniano. Perché imparare a tradurre serve anche a mettere in ordine i pensieri.